Cari amici e colleghi, sono lieto di salutarvi oggi all'Università Mgimo. Mi chiamo Andrei Sushensov, sono preside della Facoltà di Relazioni Internazionali. Oggi è la settima lezione del nostro ciclo di conferenze su vari aspetti della crisi ucraina. Abbiamo invitato Andrei Olegovich Bisrukov, professore presso il Dipartimento di Analisi Applicata delle Questioni Internazionali, membro del Presidium dell'Associazione del Consiglio della Politica di Difesa Estera, uno dei principali analisti e strateghi russi, un uomo di grande biografia e che ora è attivamente coinvolto nell'analisi, nella riflessione e nella pianificazione del futuro prossimo e più lontano. Nelle mie conversazioni con colleghi stranieri, sia occidentali che orientali, che continuano nonostante la crisi, confermiamo che nelle relazioni internazionali è arrivato un periodo da cui fare previsione è particolarmente difficile. Quello che sta succedendo è in qualche modo un grande esperimento naturale, che ha molti aspetti. La maggior parte di questi aspetti non riguarda l'Ucraina e la situazione politico-militare nel Paese. Ma poiché la crisi sarà di lungo periodo, sarà in realtà una prova qualità della strategia di ogni principale attore. E' il Paese in cui la tradizione di politica estera strategica è espressa meglio, otterrà risultati migliori nella crisi. Certamente in queste circostanze la capacità di un Paese di riprodurre elite con mentalità strategica è uno dei parametri che regolano efficienza ed efficacia del Paese stesso. Siamo contenti di avere Andrea Olegovic come parte del nostro corpo accademico. Lui condivide le sue osservazioni di vita e le sue importanti competenze applicate con i suoi studenti nei corsi di intelligenza strategica. Io stesso seguirò la conferenza d'oggi con grande interesse e attenzione e invito tutti voi a una sessione di domande e risposte al termine della conferenza. Andrea Olegovic, prego. Buongiorno amici, è un gran piacere vedervi in una sala così bella. Infatti, come ha detto Andrea Olegovic, siamo entrati in un periodo molto importante, non solo per la Russia ma anche per il mondo, un periodo assolutamente epocale. Vorrei strutturare la nostra conversazione d'oggi come segue. In primo luogo, affrontiamo grandi argomenti. Perché è successo tutto questo? Non solo la crisi ucraina, ma tutto ciò che sta accadendo lì e intorno. In secondo luogo, parliamo di come siamo arrivati direttamente a questa crisi e di chi ci ha portato. In terzo luogo, parliamo del futuro. Cosa significa per noi? Come andremo avanti e quale sarà la configurazione del mondo che ci sta dietro? La cosa più interessante è... che prevedere le grandi cose è abbastanza facile. Questo è così perché abbiamo precedenti storici. Anche se, onestamente, qualche anno fa non pensavo che sarei vissuto fino ad un'epoca di tale ridistribuzione strategica, perché l'ultima volta che il mondo attraversò una partizione interformativa di questo tipo è stato esattamente cento anni fa. Vi ricordate cosa successe cento anni fa? La rivoluzione, che cos'altro? Risposte dal pubblico. Versailles, poi la Prima Guerra Mondiale. La rivoluzione industriale, proprio così. Voi avete elencato tutto che volevo dire. In primo luogo ci fu il salto tecnologico rivoluzionario. Ricordate che in quel periodo apparverò la prima radio, i primi aerei, e con queste tecnologie abbiamo vissuto tutto il XX secolo. E ora stiamo entrando di nuovo in questo salto tecnologico interformativo. E quando tale salto avviene, rimodella l'intera economia di base su cui poggia il mondo. Alcuni paesi riescono a stare al passo col progresso tecnologico e vanno avanti, mentre altri non ci riescono. Allo stesso modo, cento anni fa ci furono due imperi che tennero insieme il mondo, quello francese e quello britannico. Ci furono gli sfidanti, in primo luogo gli Stati Uniti e in secondo luogo la Germania. A proposito, tutti dimenticano gli Stati Uniti. Sono stati i principali sfidanti di questo sistema. Questi paesi sono quelli che hanno guadagnato di più dalla ridistribuzione del sistema. La Germania era quella che l'ha distrutto. E da quel momento è iniziata la distribuzione del mondo. Non mi fa ricordare quella di oggi? Il sistema centrale, costituito attorno agli Stati Uniti e dall'Occidente, che non riesce a tenere il passo con lo sviluppo tecnologico della Cina e dell'Oriente, inizia ad andare dietro e poi cade nella trappola di Tucidide. L'Occidente non può più aspettare di diventare una regione marginale. Deve giocare l'ultima carta. E tenta il tutto per tutto. Noi siamo testimoni. E naturalmente, oltre alla ridistribuzione del mondo, ci fu una crisi sociale che diede vita a tutte quelle rivoluzioni. Non solo la rivoluzione in Russia, ma anche quella che attraversò tutto l'Occidente. Se si guarda il quadro più ampio, e ora stiamo entrando in un'altra depressione, se si guarda quel periodo, quella profonda depressione nel mondo occidentale, per poco non finì con la rivoluzione negli Stati Uniti. Ci furono numerose vittime della carestia, di cui ovviamente non si vuole parlare, ma ci furono comunque. E se non fosse stata per la politica di Roosevelt, la perestroica e la seconda guerra mondiale, non sappiamo come sarebbe andata a finire. Quindi, siamo arrivati più o meno allo stesso livello di disuguaglianza di cento anni fa. Ed è molto grave. Sta iniziando a influenziare attivamente la politica. La domanda che sorge spontanea è chi vincerà? Il vincitore sarà colui che potrà costruire una nuova economia, difendere la propria posizione geopolitica e soprattutto non distruggere il proprio Stato, non distruggere la struttura sociale su cui questo Stato è stato fondato. E ora stiamo entrando in un periodo di turbulenza quando inizia la ridistribuzione del mondo, quando inizia la ristrutturazione dell'economia e di tutta la politica sociale, perché nella nuova formazione ci sarà un'altra economia e non un'altra politica sociale. Ma noi non lo vediamo ovviamente come le persone che nel 1914 andavano ancora sui carri, non avevano idea che in trent'anni con due guerre mondiali e la depressione del 1945 avrebbero avuto voli transcontinentali, due potenze nucleari e l'ONU. Tra qualche anno o decennio, non credo che siano trent'anni, ma molto prima avremo un mondo completamente nuovo di cui voi, presenti qui, sarete responsabili. Dovrete sgomberare le macerie o costruire qualcosa di nuovo, ma in ogni caso sarà un problema vostro, del vostro Paese e del vostro mondo. Vediamo ora le sfide che devono affrontare coloro che gestiscono il mondo in questo momento. Sono sfide molto serie. Tre crisi in progressiva evoluzione che sono legate alla transizione e ridistribuzione. La prima è ovviamente quella economica. La vecchia economia non funziona. Di 10 dollari investiti nell'economia attuale, due creano qualcosa. E il resto va solo a vuoto nel mercato finanziario. In questo caso, se il problema appare è una perdita di tutto. Non c'è alcun effetto. Vediamo quello che si chiama un governo affamato, che non ha soldi, che ha promesso molto a tutti negli anni di successo e ora sta limitando i programmi sociali, ora sta cercando di sopravvivere in qualche modo, tassando sempre di più la popolazione, ma naturalmente la gente non lo vuole. E ovviamente c'è una lotta per i mercati. Se si sta perdendo la capacità di produrre qualcosa, allora strappiamola ai concorrenti. Ricordate con che cosa ha cominciato Trump arrivato al potere negli Stati Uniti? Lo scambio non è equivalente con Canada e Messico, revisione dello scambio non è equivalente con l'Europa, con la Cina, revisione, pressione, eccetera. Questa lotta per i mercati continuerà e si intensificherà. Non parlerò di politica, la sapete tutti molto bene, il mondo atlantico se ne sta andando e sta arrivando a un mondo completamente diverso. Ma la cosa più importante non è nemmeno che l'equilibrio si sia rotto e che nessuna delle istituzioni create nell'era precedente funzioni più, ma che la base su cui si fondava la dominazione coloniale, occidentale, sia scomparsa. e questa base è molto antica, ovvero la superiorità tecnologica militare. L'Occidente ce l'aveva più o meno dall'epoca di Colombo, cioè da 500 anni, quando sorgevano problemi tra l'Occidente e altri paesi che non potevano essere risulti politicamente o commercialmente. era coinvolta alla forza militare e tutto si gestiva a favore dell'Occidente. E' questo che permetteva all'Occidente di imporre il suo gioco al mondo intero. Non è più così. questo succede non perché la Russia abbia ad esempio una capacità nucleare di cui si deve tener conto. è solo che l'Occidente e l'Oriente in termini di basi tecnologiche e militari sono quasi uguali. Guardiamo all'esercito coreano di Singapore e non sono inferiori a nessuno degli eserciti europei, tedeschi o britannici e a volte sono persino tecnologicamente superiori. L'Occidente non ha più queste buone carte. Infine, la terza è la crisi sociale. Quando lo Stato non può essere sostenuto da un flusso costante di soldi, ovvero dall'acquisto di elettori, dall'acquisto di benessere, nascono tensioni sociali. La tensione sociale si manifesta sempre con rivoluzioni impreviste. Quando c'è questa tensione sociale che ha raggiunto lo stesso picco di cento anni fa, c'è già questo precariato inquieto inquieto avrete sentito questa parola? Precariato deriva dalla parola francese pre-care, cioè ai margini. È una società urbana giovane, molto attiva, si trova sui social media, ma non vede prospettive a lungo termine. Questa giovane società passa da un lavoro a un altro, non sa cosa succederà dopo, in pratica non ha soldi su cui contare ed è pronta ad andare contro qualsiasi cosa. Non si sente a proprio agio in questa società e va dietro Trump, la Brexit, l'indipendenza catalana, non importa. Lo vediamo ovunque, lo vediamo nei gili gialli in Francia, lo vediamo in Cile, questo precariato crea per i politici un ambiente che potrebbe esplodere con una rivoluzione in qualsiasi momento, una rivoluzione che sarà inaspettata come quella di febbraio del 1917. Non appena la società scossa dalla guerra non ha mantenuto la situazione e è successo un crollo. Allo stesso modo nessuno sa come sarà nel mondo prossimo. I politici guardano a queste tre cose e hanno paura e non sanno cosa fare. Passiamo ora in rassegna gli elementi chiave che muovono il mondo e che dovete comprendere. A ciò si aggiunge la politica che vediamo sui giornali, sui social media, eccetera. Bisogna capire la base su cui si fonde la politica. La prima cosa di cui si deve parlare è la tensione sociale e le sue cause. che ha letto il libro di Tom Picchetti il capitale del ventunesimo secolo. Leggete questo libro è molto importante. Nel suo libro Picchetti ha esaminato 300 anni di statistiche sulle dinamiche del lavoro e del capitale e ha ricavato una formula denominata R e maggiore di G. R è il ritorno sull'investimento, ciò che i ricchi ottengono con i loro soldi e d'altro canto è G la crescita, ciò che corrisponde più o meno alla dinamica della crescita dei salari. Negli ultimi 300 anni il rendimento del capitale è sempre stato superiore a quello del lavoro tranne in un punto. Se si guarda questa linea curva rossa si nota il picco di tensione nel 1914 l'attuale picco di tensione è firmato Biden e il crollo degli anni 40, 50 e 60. Si tratta di una flessione delle tensioni sociali. Perché è successo? in primo luogo a causa del colpo al capitale. Due guerre hanno distrutto fisicamente molto capitale. Poi gli stati mobilitando le risorse per la guerra hanno tassato lo 0% dei ricchi. Ma questa tassazione non è terminata con la fine delle guerre e è continuata praticamente fino agli anni 80. È permesso di realizzare tre cose. ha creato una classe media che ha cementato le relazioni sociali. È emerso cioè un gruppo di persone che volevano la stabilità. Ha creato un sistema politico piramidale che ci è stato venduto come un manifesto della società occidentale dove tutto va bene, dove tutto è giusto. Ha creato un trentennio di crescita continua perché se si danno soldi a coloro che non ne hanno molto li spendono immediatamente. Questa crescita economica si è conclusa con la crisi degli anni 70 e successivamente con Reagan l'economia ha iniziato a gonfiarsi. Hanno iniziato a gonfiare l'economia con soldi. non funzionava più correttamente senza gonfiarla con soldi. Siamo arrivati a questo secondo picco ma non sappiamo cosa accadrà in seguito. Se gli stati e gli oligarchi finanziari si comportano come si sono comportati negli ultimi trent'anni ci sarà un'esplosione sociale proprio come è successo in passato. L'unica possibilità è che i governi rinzeviscano tornino a mettere mano alle tasche dei ricchi e iniziano a ridistribuire i soldi nelle società riducendo le tensioni sociali creando una classe media creando crescita attraverso una vera politica industriale creando posti di lavoro. se non lo fanno ci sarà un'esplosione. C'è il demografo Emanuel Toth che anche vi consiglio di leggere. Nel 2006 quando Sarkozy è salito al potere ha scritto un libro dove decostruiva ciò che stava accadendo alla classe media in Europa. Questa classe media scompariva perché i posti di lavoro della classe operaia venivano esportati in Asia in Cina negli Stati Uniti se non addirittura in Messico. la società perdeva questa classe media e poi ha detto una frase alata che ricordo ancora una società in cui la demografia sociale assomiglia a un binario cioè un grande strato di ricchi con una classe media debole sotto la plebe urbana che non capisce dove la portano in questo caso lo Stato può essere gestito solo da due tipi di persone o da dittatori o da paliacci per paliaccio intendeva Sarkozy che ha fatto molte cose per il pubblico era tutto bello dinamico ora in alcuni paesi ci sono paliacci professionisti che fanno la stessa cosa ogni giorno in modo bello e dinamico ma il nocciolo della questione non cambia sono intrattenitori quello che succederà se gli stati non faranno nulla avrete visto sia Hunger Games che Joker che ci sarà una società in cui da una parte ci sarà un giardino dell'Eden e dall'altro ci sarà un sacco di persone non richieste a cui verrà dato un salario minimo per non farle morire di fame gli daranno i social network e li metteranno davanti un televisore da guardare Hollywood non è una fabbrica di sogni è una società di venture capital non girerà mai qualcosa che non avrà un impatto sullo spettatore ma girerà ciò che lo spettatore apprezzerà perché ne parlano perché lo spettatore è pronto a vedere questa distopia ne ha paura il prossimo è Joker in che modo gli eventi accaduti la scorsa estate a Seattle o a Portland sono diversi da quelli del film succede la stessa cosa le persone escono e distruggono tutto quello che c'è intorno il precariato urbano e questo è uno dei problemi di fondo ci sarà un'esplosione sociale allora cento anni fa la Russia era un elemento debole ed è stata la Russia a esplodere ma ora la Russia non è l'elemento più debole ci sono elementi più deboli come l'America Latina c'è il grande Medio Oriente dove le relazioni sociali sono ancora peggiori il livello di disuguaglianza è ancora più alto così come il livello di passionalità dell'Islam tuttavia il Medio Oriente è in fiamme da molto tempo quindi il fusibile è già presente e c'è qualcosa da bruciare nel mondo il secondo aspetto fondamentale è che il mondo ha iniziato a dividersi in blocchi tecno-economici si tratta di un processo oggettivo quando abbiamo un sistema globale con unico centro ottimizzato per il ciclo politico ed economico che si sta concludendo sorge la domanda come sarà il sistema di relazioni interstatali e di altro tipo nel prossimo ciclo chiaramente sarà diverso ma non sappiamo di che tipo e naturalmente emergerà solo a seguito della competizione tra diverse proposte diversi modelli e vincerà il modello che si adatterà meglio al prossimo ciclo tecnologico alla società futura vincerà e conquisterà di nuovo il mondo intero si tratta di un processo oggettivo esiste già una divisione in questi modelli di supervisione che ora saranno in competizione per diversi decenni e poi emergerà un vincitore che creerà la prossima globalizzazione intorno a loro ora ci sono già due blocchi tecnologici pronti a competere in primo luogo il blocco anglosassone è l'AUKUS creato al suo interno è un blocco tecnoeconomico questo perché si basa su piattaforme tecnologiche comuni ad esempio all'interno del blocco gli Stati Uniti condividono la tecnologia dei sottomarini nucleari che è la tecnologia segreta di base che unisce l'intero blocco le conseguenze solo all'interno del blocco si possono condividere tecnologie che hanno un impatto diretto sulle infrastrutture critiche e sulla sicurezza ma non sono condivisi al di fuori del blocco ed è per questo che i francesi sono stati cacciati dal blocco perché erano buoni amici ma non familiari e solo i familiari sono ammessi nei blocchi tecnologici il secondo blocco ovviamente è la Cina in termini di dimensione autosufficiente e grande nel complesso non importa se qualcuno vi aderisce o meno e cos'è il blocco tecno-economico si tratta di una parte di mercato che può essere controllata anche con la forza militare ha un proprio modello di sviluppo e se si guarda il modello di sviluppo anglo-sassone e a quello cinese risulta evidente che si tratta di modelli diversi si tratta di un insieme di risorse comprese quelle umane ha una propria moneta e un proprio centro di emissione e naturalmente ci saranno valute diverse il dollaro sarà solo nel blocco anglo-sassone che sta già iniziando a ridursi e anche un insieme di piattaforme tecnologiche che determinano l'indipendenza militare e tecnologica di quel blocco cioè è possibile condividere alcune tecnologie ad esempio è possibile vendere automobili da un blocco all'altro pantofole vestiti perché non influenze niente ma nessuno trasferirà tecnologie di infrastrutture critiche e tecnologie militari all'altro blocco e questo determina ora il comportamento di diversi paesi due blocchi sono chiari anglo-sassone e cinesi e tutti gli altri compresa la Russia dovranno decidere come competere con questi grandi blocchi questo è particolarmente grave per la Russia perché siamo solo 140 milioni non si può costruire un grande blocco sulla base di una popolazione così piccola perché se si investe in nuove infrastrutture se si vogliono costruire nuove grandi aziende aziende competitive a livello mondiale è necessario un mercato in cui si possa recuperare l'investimento non si tratta quindi di un problema esclusivamente russo quasi tutti gli altri reattori hanno esattamente lo stesso problema ad esempio il Giappone perché non ha una massa critica e l'Europa occidentale non ha una massa critica anche India e Turchia non ce l'hanno in altre parole tutti questi paesi dovranno negoziare su alleanze tra loro per costruire una sorta di un blocco autosufficiente che può competere con gli altri e questo è il processo a cui assisteremo nei prossimi 20 o 30 anni sarà un processo di formazione di questi spazi la cosa più interessante è che si formeranno su spazi tecnologici su piattaforme tecnologiche su quelli già esistenti ad esempio tra l'altro la guerra ha mostrato molto chiaramente che la piattaforma tecnologica di qualcun altro può essere chiusa in qualsiasi momento in altre parole nello spazio delle infrastrutture critiche e dei media ciascuno dei grandi blocchi dovrà creare le proprie piattaforme e i propri contenuti è una questione di sicurezza nazionale quello che vediamo da un lato è Huawei e dall'altro è Cisco e da un lato è Alibaba e dall'altro è Amazon naturalmente non si lasciano entrare da nessuna parte non lasciano entrare Amazon in Cina non lasciano entrare Alibaba negli Stati Uniti questo è il processo alla base della politica mondiale viene da chiedersi con chi ci uniremo nel ciberspazio la divisione della torta digitale tra le grandi piattaforme è appena iniziata non è stato ancora deciso nulla in merito è un ambiente dinamico in cui ci sono solo problemi e non ci sono soluzioni come si concilia la trasparenza delle catene tecnologiche quando si produce un iPhone in Cina lo si progetta negli Stati Uniti si produce il chip a Taiwan eccetera e tutto questo deve basarsi su sistemi digitali che trasferiscono le informazioni istantaneamente questa è l'efficienza del processo e se ogni paese vorrà controllare i dati parliamo anche di sovranità dei dati di sovranità dei sistemi giusto? è così che si concilia il fatto che il ciberspazio stia diventando un campio di battaglia lo abbiamo visto in questi tre mesi prima era ovvio molto probabilmente non potremmo evitare una corsa agli armamenti nel ciberspazio se non una guerra perché le aziende più interessate hanno una corsa agli armamenti nel ciberspazio sono proprio Microsoft e Google da un lato hanno abbastanza soldi per comprare le soluzioni giuste e dall'altro c'è così tanto denaro da guadagnare con la guerra informatica che la generazione atomica di politici e militari non poteva nemmeno sognare e se siete in grado di contare il numero di testate nucleari e di riferire quanti soldi sono stati spesi per realizzarle provate a spiegare a qualche politico quanti soldi sono stati spesi per scrivere un milione di linee di codice non lo capiscono lo stesso perciò questa corsa agli armamenti non si ferma della lotta fra piattaforme e standard digitali ne abbiamo già parlato e ora c'è un'altra crisi di base è una questione ambientale guardate due immagini a sinistra sono il livello di inquinamento quelle rosse e vedete che questa striscia arriva fino al sud della grande Eurasia e parte dell'Africa e l'immagine in basso è il tasso di aumento dell'inquinamento due immagini a destra rappresentano la crescita della popolazione nelle aree urbane e sotto il tasso di crescita della popolazione e se si combinano queste due immagini si può notare che questa crescita esplosiva della popolazione sta avvenendo nelle aree più disagiate del mondo dove già non ci sono terreni coltivabili adeguati né acqua pulita a sufficienza tra l'altro in molte zone come l'India si sta verificando un altro shock termico quando la temperatura è inferiore a 50 gradi con una medita del 100% non si tratta di giorni ma di settimane ci si chiede già se sia possibile vivere in un clima del genere allo stesso tempo la stessa regione sta diventando sempre più industrializzata è importante notare che non si sta industrializzando secondo gli standard europei l'industrializzazione è davvero disordinata voglio dire immaginate nei luoghi più sporchi e inquinati la popolazione cresce crescono città enormi senza infrastrutture normali o sicurezza le stesse città presentano una mescolanza di gruppi religiosi etnici sociali un terribile contrasto tra ricchi e poveri e altri problemi basta una scintilla per far saltare tutto in aria e sta già saltando guardate cosa sta succedendo nello Sri Lanka e questo è solo l'inizio un po' più tardi ci sarà una carestia perché l'Europa occidentale con la sua inflazione pagherà il suo pane hanno i soldi e il Medio Oriente paese poveri del Medio Oriente di tutto il sud-est asiatico dell'Africa dove troveranno i soldi quanti milioni di persone affamate ci saranno e a chi chiederanno il pane cosa accadde in Egitto quando non ci fu pane per alcuni giorni o cosa è successo a San Pietroburgo quando è mancato il pane per alcuni giorni vi ricordate? in altre parole un futuro bello è davanti a noi inoltre nella stessa regione che di fatto è già seduta su una bomba ambientale e demografica ne sta emergendo un'altra di natura politica guardate queste linee tratteggiate sono linee di rotta della civiltà tra India e Cina questa linea è di rotta a 5.000 anni tra la civiltà insulare e la civiltà tradizionale questa è la questione di Taiwan questa è la questione della competizione tra Giappone e Cina Vietnam e Cina si tratta di sciiti sunniti anche c'è una rotta queste linee rosse che si intersecano sono solo la competizione da un lato con la Cina che entra in Africa e dall'altro con le civiltà indiana e araba che hanno sempre considerato l'Africa orientale come un loro feudo per quasi mille anni mentre la Cina va attivamente a costruire basi lungo le rotte commerciali verso l'Europa l'India ha dichiarato che il suo territorio di responsabilità è l'interoceano indiano come pensate di conciliare questa situazione soprattutto quando prende fuoco ora siamo arrivati alla crisi di partenza la crisi ucraina questi grandi spostamenti sono buoni ma non sono sufficienti a scattinare una guerra una guerra viene accesa su un tema particolare da politici specifici si accende quando è necessario quindi ora deve essere così perché è necessario perché gli Stati Uniti oltre a perdere la loro posizione geopolitica hanno perso il loro equilibrio interno il mantenimento di questo equilibrio è sulle spalle di ogni politico che sale al potere cosa sta succedendo lì? gli Stati Uniti stanno entrando in un periodo di profonda crisi istituzionale e usciranno tra dieci anni al momento non ci sono ancora ma lo saranno molto presto lo si sente già non c'è nulla di nuovo in questa crisi questa è la terza crisi per loro ogni cento anni entrano in una crisi di questo tipo se si guarda allo sviluppo degli Stati Uniti ci sono tre fasi istituzionali la prima va dalla guerra d'indipendenza alla guerra civile quando si decise se gli Stati Uniti sarebbero stati uno Stato unitario o un insieme di Stati la questione è stata risolta con la guerra il secondo quando lo Stato che durante la guerra civile si trovava nella profonda periferia del mondo è diventato egemono mondiale nel 1945 dopo la seconda guerra mondiale il terzo periodo è quello del dominio iniziato con la seconda guerra mondiale che termina ora in altre parole quando gli Stati Uniti possedevano essenzialmente il mondo ora non possono più possederlo possederlo gli Stati Uniti e il loro sistema sono costruiti in modo tale da essere efficaci solo in due forme come è stato costruito dai padri fondatori cioè gli Stati Uniti sono una nazione separata dal mondo nel qual caso il sistema è pienamente efficace nel regolare la politica estera quando il resto del mondo è semplicemente un appendice degli Stati Uniti nel qual caso tutte le decisioni vengono prese a Washington un sistema in cui gli Stati Uniti sono un solo concorrente molto lento e molto orientato verso l'interno con troppi controlli e contrappesi per poter reagire sempre lo abbiamo visto all'inizio del ventesimo secolo quando gli Stati Uniti sono entrati in Europa e poi ne sono fuggiti rapidamente perché non riuscivano a raggiungere il loro obiettivo oggi vediamo la stessa cosa tuttavia è una favola cosa si sta facendo davvero perché c'è una crisi negli Stati Uniti e come si manifesta in primo luogo si manifesta nel fatto che un'elite oligarchica coesa ha iniziato a combattere tra di loro quando iniziano a litigare tra di loro allora lo Stato onesto dove per esempio c'era l'opportunità per un uomo senza molti soldi di vincere in tribunale contro una grande società questa opportunità questa opportunità non esiste più perché perché una parte dell'elite inizierà a usare lo Stato contro l'altra parte dell'elite questo l'abbiamo visto nell'elezione dello scorso anno allo stesso tempo quel bacino di fusione questo è uno dei fattori importanti che trasformava tutti gli immigrati in americani e le generazioni successive ha smesso di farlo sono sorti due problemi il primo riguarda gli asiatici che non vengono incorporati ma vivono in clave il secondo è che c'è un'ondata che arriva dal sud da tutta l'America Latina non solo dal Messico anche questa ondata non si incorpora in alcun modo perché è autosufficiente il primo luogo sono molti il secondo luogo le persone sono unite da una sola religione da una sola cultura vorrei ricordare che il cattolicismo di chi viene dal sud è ancora più antico e appassionato del protestantesimo del nord se si guarda alle giovani generazioni della politica americana ci si accorge che un'intera generazione di latinos appassionati intelligenti dinamici sta entrando nella politica americana cioè quello che la popolazione di colore non è mai stata in grado di fare perché non è mai stata interessata a entrare nella grande politica se non per alcune persone i giovani latini sono stati in grado di farlo sono riusciti a inserirsi perfettamente nella politica americana e a farla propria un processo che dobbiamo ancora vedere nei prossimi 10-15 anni assisteremo alla latinizzazione degli Stati Uniti in altre parole tra 10-15 anni nella prossima generazione gli Stati Uniti saranno molto più latinizzati che atlanticizzati cambierà anche la politica estera perché a queste persone non interessa il confronto con la Russia non capiscono il motivo non hanno problemi con la Russia a differenza ad esempio degli europei dell'est polacchi tedeschi eccetera presenti oggi nell'establishment statunitense inoltre c'è una popolazione sazia che cessa di essere sazia non vorrei andare in particolare su questo punto è abbastanza ovvio infine tutto questo ha un impatto sul sogno americano cioè se prima i genitori capivano che se avessero lavorato bene e vissuto onestamente i loro figli avrebbero avuto una vita migliore ora non solo non è garantita ma i figli dicono guarda ci hai scaricato tutti i tuoi debiti ma vai in giro per il mondo con la tua pensione e non riusciamo a trovare lo lavoro se lo troviamo dobbiamo ancora restituire i 200.000 che sono stati presi per l'istruzione eccetera quindi questo sogno americano sta diventando sempre meno questo è il problema quando c'è un problema nel paese inizia la lotta dell'elite dell'elite sorgono domande dove ci hai condotto di chi è la colpa è questa lotta tra elite che è ora visibile nella divisione del paese in due campi metà e metà in due economie l'economia industriale del centro che può essere associata ai repubblicani naturalmente sto esagerando molto l'economia costiera l'economia dei grandi centri tecnologici finanziari che competono per i soldi e per i voti questa lotta tra la borghesia finanziaria globale e la borghesia imprenditoriale reale non è americana è globale in America è solo più evidente evidente nel nostro paese è esattamente la stessa cosa dopo tutto ricordate cosa avevamo quando eravamo staccati da tutti i sistemi occidentali le più ricche erano le nostre banche giusto? Sberbank realizzava profitti record ogni anno e poteva investire in qualsiasi cosa d'altra parte però le imprese reali non potevano nemmeno prendere in prestito soldi perché era possibile farlo solo a tassi di interesse esorbitanti cioè se la vostra attività ha un margine del 10% vi viene offerto un prestito al 15-20% che senso apprendere in prestito denaro in un caso del genere cioè il dominio dell'oligarchia finanziaria è presente non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo e questo sistema che sta per crollare negli Stati Uniti è in fase di rottura ma l'hanno appena rotto per noi e lì ringraziamo molto per questo dietro di esso il sistema politico sta crollando questo consenso finanziario oligarchico era di destra liberale lo chiamo il consenso di Davos con lo slogan i soldi vincono il male ora sta crollando con Sanders che porta i liberali di destra ai liberali di sinistra il partito democratico sempre più giovane e radicalizzato e Trump che porta i liberali di destra ai conservatori di destra queste persone questi due gruppi leader 50 per 50 si sono trovati in angoli diversi e non hanno nulla in comune non riescono a mettersi d'accordo su nulla perché se uno di loro sale al potere si rendono conto che l'altro gruppo sarà semplicemente tagliato fuori da tutto ecco perché c'è una lotta così feroce questa lotta continuerà la politica statunitense interna diventerà sempre più acrimoniosa le elezioni saranno sempre più disordinate lo vedrete alle elezioni del congresso e alle prossime elezioni presidenziali saranno ancora peggiori di quelle precedenti di cosa hanno bisogno i politici in una situazione del genere una piccola guerra vittoriosa e se si guarda lontano per metterlo in prospettiva si può averne una grande ma prima che loro i politici statunitensi giungessero alla conclusione di seguire la via militare c'è stata una conversazione molto seria all'interno delle elite c'erano due opzioni perché le elite sono diverse stavamo parlando della vera elite imprenditoriale e dell'elite finanziaria dove ci sono diverse fazioni diverse opinioni una delle opinioni espresse è come uscire da questo percorso per non cadere in una crisi il primo modo è passare alla forza eliminare la Cina la Russia e tenere questo mondo sotto controllo il secondo modo e iniziare a ricostruire il mondo da sole poiché capiscono che il mondo sta per esplodere vale la pena di allontanarlo dall'abisso riduciamo le tensioni sociali rendiamo il mondo più verde rendiamo più europeo il sistema statunitense basato su profitti rapidi che si concentra su profitti a lungo termine si sono iniziate a prendere misure concrete se ricordate un paio tre anni fa si parlava di un'agenda verde eccetera ora questi discorsi sono finiti da qualche parte nella sabbia non ci sono più ma il gruppo dietro di loro che guarda con paura a ciò che sta accadendo è rimasto per molti versi questo gruppo è associato al capitalismo inclusivo come opzione per lo sviluppo del mondo si può andare in guerra o si può ricostruire naturalmente hanno molti soldi alle spalle ma ora non sanno cosa fare perché è iniziata la guerra queste persone guardando a tre mesi di guerra stanno iniziando a pensare forse possiamo in qualche modo trovare un accordo forse si può fermare la guerra e continuare a parlare con Putin noi lo sentiamo l'altro gruppo che ha deciso di andare in guerra ha preso questa decisione perché non aveva più altre possibilità perché dopo il regno oligarchico dei Clinton e dei Bush dopo che Fukuyama ha detto che non si doveva fare nulla tutto era già stato deciso hanno spento i cervelli per un po' i cervelli di Kissinger e Nixon che comprendevano molto bene il mondo reale e cercavano di giocare in anticipo non hanno funzionato per un po' e hanno portato a gravi errori che non hanno lasciato loro agli Stati Uniti altra scelta se non quella di entrare in guerra cosa è più importante per gli Stati Uniti la cosa più importante è il controllo del sistema che è stato messo in atto delle istituzioni di quel sistema dollaro eccetera questo è più importante del controllo di una risorsa di una regione se si mantiene il sistema si toglie la crema all'intero sistema quindi la comprensione tra le elite statunitensi del fatto che bisogna sacrificare diverse cose per mantenere intatto l'intero sistema è sparita per un po' hanno iniziato a commettere errori per esempio dopo il crollo dell'Unione Sovietica non hanno fatto praticamente nulla per dare alle elite russe un posto al sole di conseguenza alle elite russe non è rimasto altro che ricreare il proprio paese ricreare il proprio potenziale militare e rivolgersi alla Cina come alleato secondo rendendosi conto che in un modo o nell'altro la Cina sarebbe stata il loro più grande avversario gli Stati Uniti hanno continuato per vent'anni a rifornirla di denaro e tecnologia il terzo è che inutilmente perché gli Stati Uniti controllavano già tutte le risorse tutte le elite del Medio Oriente sono entrati in Medio Oriente sono entrati con diversi pretesti per combattere le armi di distruzione di massa come in Iraq o per combattere per la democrazia come in Egitto e roppendo l'intero sistema in Medio Oriente hanno perso di conseguenza il controllo del Medio Oriente così ora gli stessi Sauditi semplicemente non rispondono non rispondono al telefono cosa che sarebbe stata inimmaginabile qualche tempo fa sono stati questi errori a far crollare il sistema globale loro gli Stati Uniti non ne avevano più il controllo è diventato ovvio che era necessario ricrearlo militarmente questo controllo con la forza eliminando in qualche modo i principali concorrenti per la Russia è stato il momento della verità quando gli Stati Uniti hanno giocato l'ultima carta e hanno iniziato a usare l'Ucraina come ariette contro la Russia per la Russia è stato molto difficile difficile fare era un'opportunità per difendere il proprio posto nel mondo mettere sul tavolo le vostre carte vincenti il 15 dicembre e rinunciare a quella vergognosa pace di Brest numero 2 quando abbiamo perso metà del paese la cultura l'elite quando siamo diventati essenzialmente un appendice degli Stati Uniti sovrano ma essenzialmente un appendice nella tecnologia nella cultura nell'istruzione e in molti altri settori guardate la cultura che cosa di geniale a livello di ciò che è stato creato nella Russia del XIX e XX secolo è stato fatto nelle culture negli ultimi vent'anni oltre a Brad 2 quello che vediamo il programma più popolare The Voice è una copia di un programma britannico il programma Vecerni Urgant è una copia di sitcom di serata americani non elencherò nemmeno gli altri li conoscete molto bene che c'è di nostro che ven e ancora progetto sovietico quindi non ce ne sono tante di queste nostre cose finora però ne ha beneficiato la Cina ovviamente è iniziata una guerra una nuova guerra questa guerra è diversa e finisce sempre così quando aspettiamo una guerra ne viene fuori un'altra la guerra si espande e cresce si sviluppa in spazi diversi in primo luogo nel ciberspazio nello spazio con il sistema di mass con la tv di Zelensky con gli attacchi informatici eccetera dall'altro lato questa nuova guerra si addentra nuovi principi fisici da un lato i laser e soprattutto i biolab che ci hanno circondato da ogni parte esattamente come la Cina quando ad esempio arriva da te una zanzara che sembra uguale alle altre sembra ti punge e allora non avrai più figli è bello vero pulito è bello e nessuno viene ucciso naturalmente tutta la lotta riguarda l'economia la finanza l'ideologia e tutto il resto non c'è più un fronte un retro le civiltà sono essenzialmente in guerra in altre parole quella a cui stiamo assistendo è una guerra di civiltà tra culture occidentali e non occidentali e quando dico cultura non occidentali non intendo necessariamente la Russia perché guardate chi ha sostenuto la Russia e chi pur sostenendo l'occidente non ha sostenuto la Russia devo osservare che sostenere la Russia con tutte le pressioni che vengono esercitate su di essa non significa necessariamente fare qualcosa per la Russia significa anche non fare nulla per conto la Russia e questo è il resto del mondo quasi tutti i paesi che sono stati colonizzati non hanno fatto nulla di male alla Russia alcuni hanno perso fatto del bene un'interessante divisione tra occidente e non occidente questa lotta riguarda i valori quello che vediamo ogni giorno è una lotta di valori una lotta di atteggiamento una lotta di chi è buono e chi è cattivo è una lotta per la storia un aspetto particolarmente evidente nei paesi baltici i russi erano occupanti o liberatori cioè passa dentro di ognuno di noi questa è una guerra completamente diversa sarà la vostra guerra questo è il tipo di guerra che combatterete cosa possiamo dire di questo da un lato devo sinceramente congratularmi con i nostri amici americani tra virgolette ovviamente e con gli avversari che in effetti in modo molto britannico sono riusciti a realizzare una combinazione molto bella una combinazione di diamanti come è possibile mettere la discordia fra nazioni fraterne far litigare la russia con l'occidente rallentare lo sviluppo della russia per alcuni anni mentre noi lo costruivamo facendo tutto questo in un colpo solo farlo in modo tale che non potesse sfuggirlo si faceva aggravare la situazione l'Ucraina si preparava poi tutti i negoziati gli accordi di Minsk eccetera e poi hanno portato alla guerra non ci viene uscito dobbiamo combattere bellissimo alla britannica ma dopo aver ottenuto una magnifica vittoria tattica hanno pagato con la loro più grande sconfitta strategica perché iniziando questa guerra hanno messo fine alla cosa più importante al controllo del sistema globale nei prossimi anni vedremo crollare tutte le istituzioni occidentali attraverso le quali il mondo era stato controllato non parlo nemmeno del movimento olimpico che non c'è più poi ci sono tutte queste eurovisioni tutti questi accordi che sono degenerati in un anno dalle armi chimiche e qualsiasi altro il dollaro il sistema finanziario quando quando ti hanno derubato non le tue riserve d'oro ma le tue fortune finanziarie tutti hanno capito tutto non esiste un sistema del genere passeranno alcuni anni e ne prenderà forma un altro la domanda sorge come sarà il mondo in cui vivrete almeno per i prossimi vent'anni esistono tre tipi di futuro il primo è l'inevitabile futuro il secondo è un futuro possibile il terzo è quello che non possiamo capire in ogni caso ovvero tutti i tipi di cigni neri quindi ciò che è scritto qui questi quattro fattori sono tutti l'inevitabile futuro è già accaduto tutto si sta già svolgendo il primo ci sarà una crisi economica strutturale associata alla transizione da una formazione all'altra e alla disgregazione del mondo in regioni concorrenti che stiamo già vedendo ciò significa che nei prossimi anni continueranno a crescere rivalità di ogni tipo ideologiche commerciali militari eccetera il secondo c'è una rottura e una ridistribuzione del mondo per l'influenza con la forza che costruirà il prossimo sistema che saranno i protagonisti ciò significa che ognuno degli stati penserà alla sicurezza a come risparmiare risorse ad armarsi e a garantire la propria sovranità eccetera terzo stiamo entrando in un nuovo ciclo tecnologico i principali paesi l'hanno capito molto bene soprattutto la Cina che è stata la prima a iniziare a fare qualcosa poi gli Stati Uniti e l'India capiscono che se mobilitano ora le risorse fanno un salto tecnologico più veloce di chiunque altro si assicureranno un posto migliore in questo nuovo mondo e detteranno le regole del gioco tuttavia ciò richiede una mobilitazione è per questo che vediamo personalità forti in politica dove sono assenti come nel UE i paesi ristagnano non sanno cosa fare perché le personalità forti perché solo una personalità forte lo stesso Putin Erdogan Modi può costringere una metà della popolazione a combattere e mobilitare l'altra metà in fin dei conti da dove siamo partiti ci sarà una ridistribuzione della ricchezza e del potere sia in ogni paese che sulla scena mondiale è inevitabile l'unica domanda è fino a che punto gli stati saranno in grado di gestirlo se riescono a gestirlo sarà più o meno agevole se non ci riusciranno sarà un'impresa sanguinosa come cento anni fa e poi la domanda è e noi la Russia qual è la nostra posizione in questo mondo si è scoperto che è molto buono perché quando c'è un periodo di turbulenza per diversi decenni come abbiamo visto tutto torna alle basi alimentare la popolazione tenerla al caldo proteggerla darle lavoro se non c'è tutto crolla abbiamo sorprendentemente queste buone carte e nei prossimi anni diventeremo una grande potenza agricola possiamo triplicare la nostra produzione agricola ad un livello tecnologico elevato alimentiamo il mondo quel mondo affamato che brucerà noi lo alimentiamo a proposito per un sacco di soldi venderemo prodotti biologici all'Europa occidentale dato che la nostra terra non è ancora contaminata ancora più costosi secondo il mondo sta appena iniziando a strisciare verso la digitalizzazione e in California il 30% dell'energia è già destinato all'informatica ciò significa che sarà necessaria sempre più energia che i paesi che non ne hanno non si dedicheranno alla digitalizzazione semplicemente non avranno abbastanza energia saremo ancora il più grande produttore d'energia al mondo non importa di che tipo verde viola nucleare non nucleare è sempre il più grande terzo abbiamo collegamento e corridoi tra due grandi regioni di produzione e consumo che non che non bruceranno a differenza del passaggio a sud che rischia di bruciare bruciare se volete far passare una nave attraverso il corridoio sud dovrete assicurarla a un costo triplo c'è poi la possibilità di realizzare sia la via del mare del nord sia i corridoi attraverso il continente eccetera quarto siamo già un esportatore di sicurezza e stabilità militare nei prossimi anni molto probabilmente saremo anche uno dei maggiori esportatori di tecnologia ovvero un esportatore di sovranità tecnologica in materie di cyber security perché abbiamo una delle scuole di cyber security più forti come abbiamo detto la guerra informatica sta arrivando e tutti dovranno costruire le proprie infrastrutture critiche tra l'altro anche la smart city è presente è un'infrastruttura critica se si costruisce una città intelligente su piattaforme insicure è meglio non costruirla affatto qualcuno verrà a spegnerla in inverno in un giorno il vostro iphone non funziona in tre giorni tutto il vostro frigorifero è marcio non c'è acqua non ci sono fognature e fuori ci sono meno 10 gradi non è molto bello cioè se non si dispone di una propria base di elementi se non si sono costruiti sistemi improprio ma ci si affida a soluzioni e componenti altrui è meglio non costruire una smart city così come tutte le infrastrutture critiche comunicazioni finanze eccetera saremo uno dei maggiori esportatori di tutte queste soluzioni se si guarda in generale allo spazio che dovremo costruire dovremo costruire uno spazio di sicurezza lo vedo in tre cerchi concentrici la Russia stessa la CSTO plus che ci circonderà la periferia e i BRICS plus in altre parole la nostra influenza come paese sovrano insieme ad altri grandi attori sovrani è il modo in cui costruiremo questo sistema il nostro spazio finanziario le nostre piattaforme digitali che non saranno necessariamente solo nostre potrebbero essere con la Cina ad esempio o con l'India logistica nuove corridoi ora ora i cinesi stanno costruendo soprattutto corridoi ovest est mentre noi costruiremo corridoi nord sud un corridoio attraverso il Caspio il secondo corridoio di cui abbiamo parlato oggi attraverso l'Afghanistan se ne parla già e la politica dovremo costruire queste istituzioni e assicurarci che all'interno delle nazioni unite negli organi che influenzano effettivamente la politica gli organi rimanenti non vi sia una dominazione bianca una minoranza bianca proveniente da Stati Uniti Gran Bretagna Canada Germania come avviene ora tutti ci dovrebbero essere presenti dovrebbero esserci cinesi indiani brasiliani giapponesi non solo gli anglosassoni che ora dominano dominano anche l'apparato le nazioni unite dovrebbero essere diverse le nazioni unite dovrebbero essere diverse esattamente come tutti gli altri sistemi che cosa abbiamo abbiamo un'occasione storica ci è stata data questa possibilità siamo stati spinti non possiamo non andarci la crisi ucraina riguarda proprio questo si tratta del fatto che eravamo una periferia di materie prime una fabbrica di talenti e ora stiamo diventando un attore nello sviluppo del territorio tra oriente e occidente eravamo un fornitore subordinato di ricchezza e ora saremo alla guida di una grande zona finanziaria naturalmente la zona del rublo eravamo con le bombe nucleari ma non eravamo degni una stretta di mano eravamo intoccabili la scimmio con la bomba così forse ci chiamavano ora saremo uno dei tre o quattro attori principali che costruiranno il prossimo mondo sarete voi a farlo siamo stati vittime di questo modello economico che per 30 anni ci è stato infilato addosso e che non avrebbe mai potuto essere infilato perché non ci si adatta molto bene non è il nostro modello dovremmo costruire il nostro modello economico culturale ideologico e intellettuale mi rivolgo quindi a voi perché dovrete costruire concetti ideologici e politici per il mondo futuro non abbiate paura di farlo scrivete date suggerimenti il mercato è aperto grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti